E' stato ritrovato ieri mattina, senza vita nell'ivenza, a Gorgo al Monticano, il corpo della 56N di Mansuet, di cui non si avevano più notizie da giovedì, quando si era allontanata dalla sua abitazione al volante della sua auto. La Iaris era stata ritrovata il giorno dopo a Termeacque, nel Pordenonese, dove presumibilmente la donna si è gettata in acqua. Il corpo è stato poi trascinato dalla corrente fino al ritrovamento di ieri a Navolet. La 56N aveva lasciato in auto un biglietto che subito aveva fatto presagire il tragico epilogo della sua sparizione. Subito erano iniziate le ricerche, sorvolando la zona in elicottero, mentre i sommuzzatori dei vigili del fuoco setacciavano il fondale dell'ivenza. Ieri mattinata è ritrovamento. La donna, che non era sposata ed era senza lavoro, soffriva di un profondo stato di depressione.